Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, assieme ai militari del Rappuntamento Operativo Speciale, hanno tratto in arresto Michele Aportone, un settantenne di Sandonaci ritenuto essere l'omicidio del maresciallo in congedo Silvano Nestola, omicidio consumatosi il 3 maggio ultimo scorso. Cinque mesi per raccogliere un quadro indiziario che è stato condiviso dall'autorità giudiziaria e successivamente dal GIP che hanno emesso una misura di custodia cautelare in carcere eseguita quest'oggi.